Dottor Aduci è il primario dell'animazione all'ospedale di Materia e da ieri c'è qui l'ingegnere che è un po' la storia bella di questa tragedia avvenuta ieri, rimasto sotto le macerie per quante ore? Per più di 12 ore, circa 13 ore. Quando è arrivato qui com'era? Era ipotermico, era in stato di sciocco ipovolemico, ma cosciente ed orientato. Che vi ha detto? Non ha parlato, lui ha risposto semplicemente alle domande con brevi risposte, sì, no, non lo so, non abbiamo intrattenuto una conversazione perché le condizioni cliniche non lo consentono. Diceva che ha parlato con la moglie? Nelle ore successive, dopo la stabilizzazione, abbiamo consentito la moglie di visitare il congiunto e si è rivolto con parole molto dolci alla sua consola. Al momento la progna ci è riservata? Assolutamente riservata. Che tempi pensate? Non si può dire, non si tratta sicuramente di ore, ci vorranno molti giorni. Lui è affetto in questo momento da una patologia che si chiama sindrome da schiacciamento muscolare, per cui dipende da quanto questi muscoli rilasciano queste sostanze in circolo e per quanto tempo ancora. Al momento è fuori pericolo o no? No, non è fuori pericolo. No, non è fuori pericolo. No, non è fuori pericolo. No, non è fuori pericolo.